Ciao ragazzi sono Shoken01 in questo video in cui vi spiego come sedersi perché tante me lo avete chiesto ci sono due modalità con mani e senza mani allora con mani ci si mette sulla sedia così così poi scendi 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 così ora ve lo faccio vedere poi senza mani fai come con mani ma senza mani così uno due tre quattro spero che avete capito tutto come si tutto all'estero